i me contro te tornano in sala e battono avatar la coppia campione d'incassi non si smentisce al primo giorno in sala i me contro te mettono fine a un dominio di cameron che andava avanti da più di sei settimane i me contro te non si smentiscono e dominano ancora al botteghino mettendo la freccia e superando anche un colosso come avatar lui e Sophie all'anagrata di Luigi Canano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con loro solo una mappa e l'aiuto di Pongo in compagnia di Serenino e di Tara figlia del capo tribù dei pesantosi la trama del film in questo nuovo film i me contro te trascinano il pubblico nella natura tra liane e animali selvatici questa volta lui e Sophie dovranno impedire che la cattiva viperiana contamini una fonte magica nascosta proprio nella giungla grazie alla quale si possono annullare tutti gli incantesimi del mondo evitando così che la terra venga trasformata in un deserto spoglio e senza vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti